Tutti vogliamo usare meno carburante. Anche noi di esso. Ma non possiamo farne a meno. Non ancora. L'auto è un elemento essenziale della nostra vita. Per fare la spesa, per andare al lavoro, per restare in contatto con le persone che amiamo. Ma guidare ha un impatto sul nostro pianeta. Non abbiamo ancora tutte le risposte, ma sappiamo che qualcosa deve cambiare. Quello che facciamo oggi, ogni piccolo gesto, può iniziare ad aiutarci a risolvere la sfida energetica che stiamo affrontando. Noi lo chiamiamo guida consapevole. Guidare solo quando necessario e in modo più efficiente, scegliendo il carburante giusto o cercando alternative all'utilizzo dell'automobile. Come lavorare da casa, scegliere lo smart working quando possibile, acquistare prodotti a chilometro zero e usare la tecnologia per sentirci più vicini. Non sarà facile, ma un viaggio di chilometri inizia con il primo passo. E vogliamo farlo insieme a te. Anche se significa vederti meno spesso. Non esattamente quello che ti aspetteresti di sentire da chi vende carburanti. Ma i tempi sono in continua evoluzione. E anche noi di esso.